Ben tornati ragazzi, quest'oggi siamo con Orca Slicer, quindi si parte con il corso. È lo slicer del momento, ha ragione oggettivamente di esserlo, è molto completo e soprattutto compatibile con tutte quante le stampanti, siano esse clipperizzate oppure marlinizzate o reprapperizzate, come cavolo volete chiamarle, quindi non è specifico per le Bumble Lab, per quanto ne parleremo comunque all'interno, il corso sarà generale generico, quindi tutti quanti potranno usufruirne. Questa è la prima puntata, quella più semplice, installazione, devo reperirlo, alcune informazioni di base e poi tutte le prossime andranno nello specifico con bene o male quasi tutti i valori. Cercherò di non fare qualcosa di noioso e di analizzare nel dettaglio tutti i parametri con relativi esempi. Questo corso nasce grazie ai Patrons perché mi hanno dato uno spunto interessantissimo, uno, mi hanno dato tanti spunti, dai Pirates fai qualcosina su Orca, voglio un approfondimento su Orca, quindi ho ascoltato un pochettino di campane e ho detto ma sì dai, riprendiamo in mano il discorso e facciamo un corso stile, quello che avevo fatto per Key Slicer, Simplify 3D, Idea Maker, quindi qualcosa di corposo su più puntate e insomma vedo di fare il possibile. Se ovviamente hai bisogno di qualche approfondimento magari scrivimelo qui sotto nei commenti che cercherò di tenerne in considerazione magari per i prossimi video. Quindi grazie Patrons, vi voglio tanto tanto bene e grazie a tutti i followers del canale e a chi sta supportando attivamente il canale anche su Coffee che sono già arrivate alcune birre quindi ringrazio tutti quanti dopo magari mi ubriaco. Partiamo con il capire da dove si scarica Orca Slicer, vi ricordo è praticamente una fork di Bamboo Studio per quanto, ripeto, non sia nato esclusivamente per le Bamboo Lab, però comunque condivide tutta la base e aggiunge determinate funzionalità, quindi che voi state imparando Bamboo Studio oppure Orca Slicer questo corso è perfetto. Mancheranno alcuni valori, alcune funzionalità, però quelle le sgammate immediatamente le differenze rispetto a Bamboo Studio. Quindi andiamo a vedere, link in descrizione, tutto quello che ha a che fare con i link le trovate nella descrizione. Ad oggi la versione è la V1.8.1, se stai vedendo questo video che non è nel 2023 ma magari nel 2024, 2025 eccetera eccetera controlla che magari potrebbe essere stato aggiornato il programma e sicuramente qualche differenza rispetto a questo corso potresti trovarla. Sotto trovi le varie versioni per Linux, Mac e Windows, quindi tutte e tre non potete dire no, non c'è la versione per il mio computer e una volta che l'avete scaricato vi consiglio anche, ma è opzionale, di attivarvi eventualmente un account su Bamboo Studio per quanto riguarda dopo la gestione del cloud, eventualmente Maker World, però lo vedremo dopo ed è completamente opzionale andate su Create Your Account e vi fa tutto quanto questo ben di Dio. Fatto questo aprite Orca Slicer e come prima cosa vi viene richiesta queste informazioni. Quindi il setup wizard vi chiede che le località, in quale regione del mondo abitate, attualmente mettete Europa, vi serve più che altro per dopo se avete fatto la registrazione con Bamboo Studio per una questione di server e tutto quanto. Cliccate su Next e qui la cosa prima importante, stiamo iniziando con Orca Slicer, dobbiamo capire come impostare la stampante. Fortuna vuole che ad oggi quando uno installa uno slicer che sia Brusa Slicer, Orca Slicer, Bamboo Studio, lo stesso Idea Maker, Cura, hanno tutti una serie di profili già pronti delle stampanti. Quindi è gran difficile che uno parta da custom printer, cioè da zero completamente per farne uno. Quello che vi consiglio è, qui intanto di solito tutte le stampanti più famose e più utilizzate ad oggi sono disponibili. Le Bambulab ovviamente, le Cidi, le Voron, le Creality, le K1, le Anycubic, c'è di tutto e di più. Anche la 5M Pro che devo andare a fare la recensione, ci sono le FL Sun, l'avete visto nell'altro video. C'è tutto, quindi vi fa anche selezionare se è disponibile la versione per ugelle di differente diametro, ma se non dovesse essere presente, io vi consiglio, prendetene una più o meno circa che sapete essere, cioè tipo avete delle Ender, ne prendete una, cioè ho anche le Legu, la 2S, la 2D, la 3, prendetene una di base e poi dopo magari iniziate a lavorarci sul profilo. Quindi anche se non dovesse esistere quello specifico per la stampante, partitene da uno similare e poi andate avanti. Fatto questo, selezionate le stampante che vi interessano, cliccate su Next e vi chiede poi anche qui i materiali. Come vi ho detto qui, a seconda delle stampanti che andate a selezionare, vi vengono proposti un puttiferio di materiali. Ad esempio, avevo selezionato le Cidi e mi dà anche i profili dei materiali della Cidi direttamente. Ci sono quelli dell'FLSA, quelli della Raze 3D perché avevo selezionato quelli della Raze. Ci sono sia i generic, quelli generici, che anche quelli specifici fatti proprio per i materiali della casa madre. Qua, in sbizzarieti, vi selezionate quelli che vi servono. Cercate di non selezionarli tutti perché tanto se non li avete in casa che senso ha? E comunque potrete aggiungerli a posteriori con un semplice clic. Questa sarebbe la prima apertura vergine del programma. Qui non compaiono gli ultimi file aperti recenti. La parte relativa al login register qui in alto a sinistra è quella che vi dicevo prima. Quindi se avete fatto l'account, tecnicamente adesso è utilizzabile anche senza fare login register. Ma vi spiego subito la differenza. Se ad esempio vado su prepara e vado a vedere qui ad esempio le stampanti disponibili, qui mi dice praticamente le stampanti che abbiamo inserito prima con le spunte iniziali. Stessa cosa vale per eventuali materiali tipo seleziono l'acidi. Nell'acidi qui mancano tutti i materiali che avevo aggiunto io manualmente e che ho condiviso tra l'altro nel video dell'acidi. C'è un link dove rimando praticamente ai profili personalizzati. Cosa succede? Se io adesso faccio il login, quindi faccio il login register e qui metto le mie credenziali, la cosa che mi chiede è questa. Intanto mi carica la mia bella immaginina Pirate Self 3D e poi mi dice vuoi importare dal cloud i profili che vi ho salvato precedentemente? E io dico sì. Eccolo qua. Sia profili, processi di stampa che stampanti personalizzate, oltre a quelle di default, lui me le va a caricare. Questa è una cosa iper comoda ragazzi, perché che voi lavoriate, ad esempio il mio caso è lavoro sia da casa che da ufficio, non devo star lì ad avere copie di backup del profilo o cose del genere perché me li salva, eccoli qua vedete, tutti quanti in automatico. Quindi faccio una modifica qui in negozio, poi vado a casa, riapro il programma e mi rivedo la stessa modifica. È una cosa che stanno anche per buttare fuori su Prusa Slicer, però dico su Orca e su Bamboo Studio attualmente questa è una funzionalità molto 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 comoda. Quindi il cloud se volete io vi consiglio di attivarlo per questa gestione qui dei profili personalizzati. Se ti stai chiedendo è in inglese il programma? Sì è in inglese, è multilingua, c'è anche l'italiano qui in alto nella freccettina, ti basta andare dentro le preferenze del programma e c'è la versione inglese e c'è anche l'italiano. Tra l'altro l'italiano è stato tradotto da un mio patrons, bravo, ha fatto un lavorone enorme. Quello che vi dico però è attenzione perché per quanto abbia fatto un lavorone enorme alcune cose non sono ancora state tradotte perfettamente. Vi consiglio eventualmente di segnalagliele che ovviamente lui terrà conto della cosa. Vado a vedere ad esempio l'apertura pittura multimateriale che sì alcune tradizioni sono un po' pittoresche però divertenti. Diciamo che io personalmente preferisco ottenere la lingua inglese anche perché buona parte delle guide che troverete online poi dopo fanno riferimento a delle terminologie in inglese. Mi dispiace ragazzi non so cosa dirvi, io sono abituato così ma lo sapete da sempre con tutti i programmi lavoro con la dicitura in inglese. Fatta questa doverosa premessa allora andiamo a vedere la primissima parte poi dopo le altre diciamo puntate servono per vedere un po' tutti i parametri. Se mi sfugge qualche parametro o qualcuno non l'ho spiegato bene me lo scrivi qui sotto nei commenti mi dice Andrea guarda hai scritto una cagata oppure me lo spieghi un po' meglio quell'altro allora valuto un pochettino se eventualmente approfondire determinati determinati parametri. Allora in alto qui a sinistra c'è un ingranaggetto che vi serve eventualmente per rientrare e aggiungere eventuali altri stampanti quindi non è che il tutorial dovete rifarlo dall'inizio ogni volta quindi basta cliccare con la cucina lì e siete a posto. Le altre due qui una vi permette di selezionare le stampanti ricordate user presets vuol dire sono le stampanti che avete creato voi e diciamo di solito si crea partendo da zero da una stampante importati nei system presets e dopo una volta che la salvate la salva nei vostri preferiti ok preferiti che sono quelli che poi vanno nel cloud e vi vengono sincronizzati ovunque voi andiate che voi siete in Cina in America o in Italia quei profili ritrovate sempre disponibili dopodiché come si fa a entrare nelle impostazioni della stampante ad esempio andiamo a vedere l'impostazione della stampante qui c'è il tastino per modificare tutte le impostazioni relative alla stampante non al profilo di stampa ma della stampante quello di fianco vi consiglio di configurarlo subito se disponibile per la vostra stampante è la possibilità di collegarla a un'eventuale diciamo interfaccia web allora la Bambulab si collega in automatico per i cavoli suoi altre stampanti dotate magari di Octoprint di Clipper Plus A Connect o tutte quante quei dispositivi ad esempio anche l'Astrobox questa qua non lo sapevo o Repetiera Host eccetera eccetera vi permette di inserire un eventuale indirizzo IP con la porta se associata di di apertura diciamo di quella interfaccia web e di dire che cosa un'altra adesso vi faccio vedere clic ok vado su device qui in mezzo se io avesse una Bambulab collegata mi aprirebbe l'interfaccia della Bambulab adesso ho quella della CD attiva e mi apre direttamente Clipper quindi non devo neanche aprire un'eventuale pagina web esterna per andare a caricare poi i file o gestire la stampante perché una volta che ho fatto lo slicing poi ci sarà un tastino con scritto ehi mandalo direttamente nella stampante solo se avete fatto questa diciamo questa procedura di di inserimento dell'indirizzo IP non è detto che tutte le stampanti supportino questa cosa qua però provate insomma vedete andando nel vivo dell'impostazione della stampante allora troviamo un pochettino di cosine bellissime allora prima cosa vi chiede di impostare il volume della stampante quindi set e qui andate direttamente dentro a specificare che tipo di piano avete le dimensioni eventualmente e l'origine del piano 00 vuol dire in basso a sinistra oppure potete dare una un'origine differente per quanto riguarda la texture se vedete questi piani sono tutti personalizzati vedete che hanno delle immagini volete farne uno per i cavoli vostri come avevo fatto io per le artiglieri quella a suo tempo vi basta semplicemente cliccare su texture e aggiungere una texture con di solito un png o un jpeg per personalizzare il piano stessa cosa per quanto riguarda il modello serve avete un modello 3d del piano lui ve lo carica e vabbè insomma sono il modello potete anche evitare di caricarlo però fa figo averlo disponibile esclusione di parti del del piano vuol dire che in quelle zone lì praticamente lui non potrà andare a stampare cioè la stampante non andrà a stampare ad esempio la bambula ha una una zona in basso a sinistra sulla quale non va a stampare che è che è questa qui vedete più più zone in realtà però ne ha neanche una in basso che non che viene esclusa praticamente dal posizionamento del pezzo in principio al modo anche per quando si utilizza l'auto posizionamento dei pezzi e poi dopo che cosa abbiamo abbiamo la possibilità di impostare l'altezza del piano di stampa per quanto riguarda dopo lo z offset lo z offset è quella parte che normalmente si lega si regola direttamente a bordo macchina tramite la regolazione del primo dell'altezza del primo strato oppure cioè si tende ad aggiungere quando siete troppo schiacciati col primo layer però è difficile che uno lo faccia da slicer ad esempio chi ha le bamboo tende a usare questo comando qui oppure dallo start gcode perché non ha la regolazione del baby stepping non ha la regolazione dello z offset in live durante la stampa ma chi è dotato di altri stampanti che non siano bambula in genere questo comando lo utilizza già a bordo macchina per quanto riguarda la scelta del del firmware se avete se state partendo da zero con la scelta del profilo che la compilazione del profilo compilazione con la scrittura del profilo dovete selezionare anche che tipo di profilo e che tipo di firmware ha la vostra stampante marlin vecchio clipper wrap wrap o marlin 2 quindi semplicemente adeguatevi per quanto riguarda le le anteprime le gcode thumbnail questa cosa qui dipende molto da macchina macchina e da che firmware monta e tutto e anche da che dispositivo ad esempio ci sono alcuni lcd che non leggono le 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 anteprime le anteprime sono quelle cosine vi faccio vedere quando caricate un file praticamente è l'anteprima questo questa iconcina qui dell'oggetto che andate a caricare di solito ve lo fa vedere anche a bordo macchina e non è detto che tutti gli lcd lo lo leggono è carino da impostare però vi dico non posso darvi dei valori assoluti perché dipende da da macchina a macchina quindi state attenti seguite cosa vi dice eventualmente il produttore questo comando invece è classico quando vi dico e ragazzi mi avete impostato le istrusioni di tipo relativo assoluto eccolo qui questo qui è il comando avevo fatto anche un video vecchio dedicato oppure ti chiede di utilizzare la retrazione a livello firmware che è una cosa che uno imposta all'interno del firmware però dipende insomma da che cosa utilizzate voi normalmente io consiglio di utilizzare le retraction impostate nel profilo di stampa poi fate come volete il time cost serve per impostare in pratica quanto costa operare la macchina ogni ora in modo tale che quando vi fa alla fine il calcolo del tempo avete una stima un po più precisa del solo calcolo del materiale poi per quanto riguarda il cooling fan molto interessante vabbè ce l'hanno quasi tutti ormai questo questa impostazione qui è la fan kick start time serve quando avete delle delle ventole che praticamente sono un po pigre a partire e che lavorano a bassi giri e tutto ci mettono un po ad arrivare a regime gli date una cannonata ok gli dite parti per tre secondi a cannone poi dopo ti stabilizza alla percentuale che ti ho detto se gli dite stai al 20 per cento ci sono alcune ventole che al 20 per cento manco si accendono se sono spente se voi gli dite stai accesa tre secondi e poi scende al 20 per cento è diverso lì ve lo tiene di solito poi per quanto riguarda l'extruder clearance serve praticamente per definire alla macchina allo slicer quanto all'ingombro del tuo ottene un ottene inteso proprio come tutto quanto il gruppo serve per quando si fa la stampa sequenziale perché la stampa sequenziale sapete che fa un oggetto lo finisce poi passa e si sposta di fianco e lo spostarsi di fianco implica che a non deve andare a cozzare sull'oggetto già stampato quindi dovete vedere proprio l'ingombro totale della scatolotta di estrusione ma soprattutto dovete vedere la distanza totale che c'è ad esempio tra le barre dove si muove la stampante e il piano perché se avete un oggetto estremamente alto che cosa succede questo qui quando dopo riazzera strunc spacca fuori tutto quindi queste qua sono delle cose comuni in tutti gli slicer per quanto riguarda invece la scelta del tipo di di ugello qui non è fondamentale cosa mettete adesso è fondamentale solo perché per certi materiali e lo vedremo quando studieremo la tab dei materiali vi spara fuori un avviso e vi dice ragazzi guardate che non puoi stampare questo materiale perché è richiesto l'ugello in acciaio quindi al momento mettete quello che effettivamente avete su in macchina la auxiliary part cooling fan quindi la 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 ventola di raffreddamento esterno di solito qua fa riferimento vedete m106 p2 in genere la p2 è collegata a quel ventolozzone quello che spara tangenzialmente ai pezzi ed è quella ventola grossa che serve quando stampa pla perché altrimenti stampando veloce cannone i pezzi collassano quindi se ce l'avete attivatela che così eventualmente vi aggiunge questo determinato comando quando richiesto parlando di machine g code è tutto qui cosa abbiamo classici start e end g code non dovete sono quando vi dico ehi aggiungere nello start nell'end g code qui sono le solite cose ok se avete un profilo precaricato dopo magari se volete capire come compilare uno start g code magari me lo fate sapere qui sotto in descrizione anzi in descrizione nei commenti ma l'avevo già l'avevo già trattato in un vecchissimo video però sarebbe ora magari di riattualizzarlo con le macro di clipper e tutto quindi qui trovate gli start ng code pause g code change extrusion c'è tutto per quanto riguarda il tab multimaterial l'assalto perché qui stiamo parlando di stampanti mono estrusore però quando si lavora con stampanti a doppio estrusore qui si attiva ad esempio la wipe tower che è fondamentale la wipe tower è la torre di spurgo quindi quando un ugello rimane fermo prima di riniziare a lavorare lui spurga su una determinata torre ma se avete piacere qui sotto nei commenti me lo scrivete magari per i prossimi video non terrò conto e dopo qua c'è anche tutta quante la parte relativa a chi ha un singolo tend con più motori che sparano dentro materiale ma non ve lo spiego adesso perché sono casi estremamente particolari la tab extruder invece ve la spiego in parte per un semplice motivo perché parte di questi valori che troviamo qui dopo li possiamo andare a personalizzare anche quando tratteremo il materiale quindi per il momento che cosa limitate vi limitate a impostare sicuramente il diametro dell'ugello è fondamentale perché determinati valori che imposteremo più avanti faranno riferimento a questo nozzle diameter lo so vi sto rispiegando quello che è prusa slicer perché in realtà è la stessa cosa prusa slicer nasce bamboo studio prende orca slicer prende da bamboo studio che a sua volta è presa da prusa slicer quindi se voi sapete utilizzare già prusa slicer siete a cavallo perché buona parte di queste cose quelle sapete già poi per quanto riguarda invece la l'altezza layer i limiti dell'altezza layer questi quali impostate esclusivamente per una questione di altezza layer adattativa quando andremo a vedere quel comando lì sapete che la vostra stampante potrà lavorare da un minimo di 0.07 mm a un massimo di 0.3 mm questi valori li adeguate in base alla stampante che avete ok non tutti riescono arrivare a 0.07 ma se ad esempio variate il diametro dell'ugello sicuramente la massima altezza estrudibile varierà per quanto riguarda l'impostazione degli extruder offset è una cosa un po particolare ma in realtà se dovete se avete bisogno di impostare un offset dell'estrusore che magari è decentrato non ho la più palida idea del perché le dobbiate applicare qui a livello di profilo in genere queste cose io le faccio già a livello di firmware per quanto riguarda le retraction queste qui sono le cosette retraction che avevo spiegato anche nel video vecchio quanto materiale viene ritratto dalla stampante io vi consiglio al momento le tralascio ok te le spiegherò quando parlerò del filamento quindi qui imposti una cosa generica e poi vedrai che per ogni filamento andremo a specificarne una ben precisa per quanto riguarda lo z top sai che questo qui è la ritrazione non la ritrazione è quando la macchina deve spostarsi da un punto all'altro invece che farlo raso pezzo lei si rialza un pochettino si sposta e poi si ribassa anche questo qui lo potremo vedere nel dettaglio magari quando spiego i materiali per spiegarvi le differenze tra spirale o spirale oppure slope che sono molto interessanti ma occhio che alcune volte con clipper rompono le scatole quindi nel dubbio tenete la normal e siete a posto dopo c'è il wipe l'avevo spiegato anche negli altri video the retraction ma queste quale spiego direttamente nella tab dei filamenti lift z enforcement in realtà non capisco perché l'abbiano messo separato quando in realtà bastava metterlo direttamente sotto lo z top perché è sempre lo z top solo che è un modo per limitare quando avviene questo z top quando è quando fagli fare questi 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 saltini da un punto all'altro perché più salti fa più tempo ci mette quindi se noi mettiamo 0.4 mm lei si rialza di 0.4 mm ma se ad esempio mettiamo un millimetro perché può capitare delle volte che per evitare di cozzare sul pezzo mettiamo un millimetro ecco più mettete distanza più ci mette tempo a fare e quindi la stampa si allunga enormemente però qui potete vincolarla ad esempio sotto una determinata altezza sopra una determinata altezza oppure su determinate superfici solo sui bottom layer solo sui top layer oppure sui top e bottom layer perché in genere lo notate quando fate una superficie piana e dopo vedete il segnone perché magari avete un po di over extrusion solite menate che ho già spiegato comunque negli altri video e vedremo nel dettaglio quando parleremo della tab dei filamenti per quanto riguarda invece la ritrazione quando si cambia materiale fa riferimento alle stampanti multimateriale multi multi estrusione quindi tipo la raise cioè due ugelli quando uno lavora l'altro non lavoro sta su per evitare che questo goccioli materiale non si utilizza la retraction quella standard ma gli si fa fare una retraction molto più lunga in modo tale da evitare che per effetto della forza di gravità questo qui percoli giù e mi pisci poi sulla stampa ovviamente queste distanze vengono calcolate sulla base dell'ugello che montate e sulla base dell'hotend con la relativa gola che montate di solito è il produttore che le imposta queste cose qua se andiamo dopo su motion ability qui in realtà c'è poco da dire perché queste qui fanno riferimento ai limiti della vostra stampante quindi non è che se qui scrivi 600 la macchina automaticamente va a 600 qui sono semplicemente dei limiti della vostra stampante non te li ricordi apri il profilo di stampa anzi apri il firmware ti vai a vedere che impostazioni sono state messe per determinate cose quindi tipo velocità in x velocità in y metti le velocità che sono presenti all'interno del firmware se ancora utilizzi il jerk imposta anche il jerk queste qua serviranno in sostanza vengono utilizzate dallo slicer per innanzitutto dire quando inizia la stampa fin dove può arrivare la macchina ma in realtà le velocità vengono prese poi dopo dal profilo ma più che altro gli serve per il calcolo del tempo in particolare le accelerazioni poi se andate a vedere un rapporto con brusa slicer ad esempio vedete lui ti permette di dire emetti tu gcode vuol dire che nello start gcode gli dà un comando che gli dice ehi tu puoi lavorare fino a un massimo di x di y eccetera eccetera e oppure se non volete che spari fuori questi comandi della macchina che tengano esclusivamente quelli salvati nel firmware perché vi ricordo mettendo valori diversi da quelli del firmware si va in sovrascrittura cioè prendono quelli che che sono scritti qui dentro per quello vi ho detto prima di mettere quelli che sono scritti nel firmware se ad esempio mettete 800 la macchina tecnicamente bypassa il comando che era messo nel firmware l'ultima tab invece quella relativa alle note notes e se avete qualche particolarità da scrivere l'attiva la stampante la scrivete qui se buona parte di questi valori non li vedete attivi è perché in alto a destra qui questo toggle questo interrutturino non è attivo viene abbastanza spontaneo capire di attivarlo però lo attivate nel caso se fate delle modifiche che cosa succede ad esempio rispetto a questo profilo di stampante al momento non ho modificato nulla ma mettiamo che metto dei valori a caso tipo 3 4 vedete come su prusa slicer compare che rispetto all'ultimo salvataggio io che cosa ho fatto ho fatto delle modifiche se io clicco sulla prezzettina qui lui me lo riporta all'ultimo salvataggio se invece ha fatto un milione di modifiche fate tipo tatata voi potete scegliere di fare che cosa salvare direttamente o lo stesso sovrascrivendolo oppure andando a salvarne uno ex novo che dopo lui lo salverà direttamente nel cloud oppure dite non so che cavolo ho fatto riclicate su questa iconcina piccolina qui e tutti i parametri che avevate impostato vari ed eventuali che magari non vi ricordate tipo scrivo qua 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 così scrivo di qua robe a caso ok cosa succede che se io clicco su questa impostazione qui mi ritorna tutto al precedente salvataggio non single per singolo valore ma tutti quanti contemporaneamente bene visto quanta roba c'è da dire nonostante sia solamente la prima tabettina della stampante bene ti invito a mettere mi piace al video se ti è piaciuto e a condividerlo a tutti quanti te amici amici conoscenti parenti zii nonni quello che volete quello che vuoi e attiva la campanellina perché tutti i prossimi video ti arriva almeno l'avviso direttamente sullo smartphone o dove cavolo hai messo dove vuoi ricevere gli avvisi quindi come vedrai non c'è un unico video ce ne saranno diversi e per il resto condividi video se ti è piaciuto iscriviti al canale dai un supporto eventualmente al canale attivamente su patron oppure su coffee e per il resto ti ringrazio vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao